rieccoci aspettiamo un attimo fatemi risistemare qua devo rimettere ancora su twitter perché se cade la linea pazienza che ci vuole un attimo sì ma e si fa le su youtube non è che posso girare tutti i social possibili ecco qua adesso avviene tutto ma adesso poi finirà che li faccio su instagram poi su tik tok finirò eccolo qua adesso messaggio su twitter sarà stato che quando si parlava di berlusconi schiacciato il bottone di dietro va bene adesso è notte non si vedeva vicino vicino a quelle luci vediamo un po vicino a quelle luci lì ecco qua sulla sinistra c'è la famosa c'è la famosa villa sul lago quella di dell'utri vi ricordate oggetto di una delle mille mille indagini all'epoca la famosa villa di dell'utri magari domani ve la faccio vedere vabbè comunque adesso aspettiamo che ritornino la maggior parte degli altri dovremmo esserci c'è già letta che dice che lo spread da 400 se loro gruppo non va bene ma diciamo anche a 500 ma diciamo a 800 così pensa che meraviglia ok dai direi che la maggior parte le abbiamo le abbiamo recuperati allora il vedo sì hai ragione anche tu col favore delle tenebre non ci riesce non ci riesce bene altra parte in parallelo c'era bagnai allora torniamo a cosa succederà domani allora si validano gli strumenti stupidi e per quello che riguarda il recovery fund si butterà la palla avanti perché perché ci sono in pista due proposte che sono abbastanza coincidenti e c'è un'altra proposta che è quella della merkel la proposta della merkel ovviamente passa di mezzo per condizionalità con tutto quello che 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 ci che ci manca la proposta spagnola e la proposta francese sono da considerare con prudenza sono da considerare con prudenza perché non so se avete presente avete visto cos'è la proposta spagnola dice si fa un'entità chiamiamola come vogliamo si crea l'entità si evoca poi qui di notte viene bene no si evoca un'entità all'interno dell'unione europea dopo che si è evocata l'entità del da parte del dell'unione europea gli si fa emettere dei titoli tutto questo è basato sul bilancio europeo gli si fa mettere dei titoli perpetui di cui col bilancio europeo si pagano solo gli interessi attenzione vediamo di capirci supponiamo che questa entità questo non so una roba tipo come che stranger things no una cosa che viene dall'altro mondo emette per farla facile diciamo 100 miliardi di titoli perpetui il mercato poi vediamo cosa sarà il mercato e come l'unica maniera con cui questa roba può funzionare il mercato li compra questi titoli perpetui diciamo che hanno degli interessi all'uno per cento quindi per sempre tu incassi l'uno per cento se hai questo questo titolo bene cosa significa che significa che se io ho emesso cento miliardi di titoli che poi lì si dice che vengono anche regalati cioè vengono dati ai paesi non si sa bene con che con che logico allora cento miliardi di titoli emessi vengono spartiti poi fra diversi paesi chi ne ha più bisogno così questo tipo no perché l'idea spagnola ovviamente probabilmente nella loro mente è tutti a loro dopodiché col bilancio dell'unione europea si pagano gli interessi abbiamo detto che questi titoli pagano l'uno per cento ogni anno quindi significa che se io ho emesso cento miliardi di titoli ogni anno ho un miliardo da pagare il quale miliardo da pagare sarà ripartito sul bilancio dell'unione europea ricordate noi ci mettiamo di più gli spagnoli ci mettono di meno quindi loro insistono per avere queste soluzioni che sono come dire basate sul bilancio perché sanno che loro sono contributori netti quindi in buona sostanza noi pagheremmo una quota maggiore di interessi rispetto agli altri ma uno potrebbe dire sono sempre di meno la garanzia di questi titoli perché poi uno dice vabbè ma con cosa sono garantiti la garanzia di questi titoli spetterebbe pro quota ai singoli stati cioè in buona sostanza noi ci indebiteremmo lo stesso per questi titoli quindi supponiamo che noi veniamo considerati essere il 15 per cento dell'unione europea a quel punto se si emettono 100 miliardi noi siamo responsabili per 15 dobbiamo pagare una frazione quindi sempre parlando del 15 soltanto 15 per cento degli interessi annui che abbiamo detto che sono un miliardo su 100 miliardi quindi in una maniera o nell'altra noi abbiamo detto che sarebbero 15 milioni quindi non tanto ecco giusto per capirsi il fatto di pagare 15 per cento scusa di un miliardo sarebbero 150 milioni sempre sempre non tanto di questi di questi interessi interessi annui però ci sarebbero 100 miliardi da sposta da spargere allora cosa non va secondo me di questo sistema allora di questo sistema secondo me non vanno due cose innanzitutto stiamo sempre parlando di un'entità centrale che decide lei a chi spargere i soldi e normalmente noi da queste da queste spartizioni siamo sempre dal lato dal lato fregatura no dall'altra parte c'è un piccolo non detto su tutto questo gioco è chi cavolo compra questi titoli perpetui cioè voi lo comprereste un titolo perpetuo al 1 per cento garantito da una roba che probabilmente salta per aria dalla mattina alla sera oppure potrebbe andarsene uno c'è terza cosa che non mi piace di questa idea l'idea di perpetuo no cioè un'obbligazione perpetua dove se se noi per dire se qualcuno volesse cambiare idea dopo un certo periodo però è ma ci abbiamo i titoli perpetui fuori e così via però il punto importante è chi li compra se li compra la bce cosa che alla fine mi sembra ovvio perché ripeto non vedo le folle fuori per comprare il titolo perpetuo a basso tasso di interesse se li compra la bce magari il gioco può funzionare me ne ricordo altri cioè vale a dire era parte della mia proposta giusto per capire quando avevo detto le cento opere ha detto va bene ok in quel caso era la bay la bay prende fa dei titoli perpetui questi titoli li compra la banca centrale europea tutti a quel punto li compra la banca centrale europea e crea soldi che dà la bay la quale con quei soldi ci fa delle opere cento opere abbiamo detto per per tutta europa questa era la mia idea ma è un po diversa rispetto a questa cioè qui in quel caso era un'emissione di titoli propri fatti da da un organismo unione europea comprati dalla bce quindi era una monetizzazione de facto se io utilizzo invece lo schema che hanno detto loro in questa maniera io stato membro rimango responsabile di questi di questi titoli quindi io rimango debitore nei confronti della bce non è che sia una cosa che mi entusiasma essere debitore nei confronti della bce o in generale essere debitore verso qualcuno perché allora se alla fine deve essere un titolo di debito che viene comprato dalla bce ma perché non farlo su base nazionale io e metto i miei titoli li compra la bce e abbiamo finito li chiaro se io mi invento uno strumento di mezzo che emette i titoli ma questi titoli sono garantiti pro quota almeno come contabile no dal dagli stati membri a quel punto lo stato membro è debitore nei confronti della bce io questa roba la voglio vedere bene perché non vorrei che praticamente si aumenti ancora di più no robe tipo il saldo target 2 o similari solo che mentre saldo target 2 fa capo alla alla banca centrale in questo caso invece fa capo allo stato quindi io penso che siano sempre degli strumenti stil guinzaglio no cose di questo tipo che in una maniera o nell'altra è vero che ti danno dei soldi all'inizio è vero che anche abbastanza intelligente come come meccanismo perché in una maniera o nell'altra la spesa effettiva è solo ed esclusivamente quella degli interessi dall'altra parte per me bisogna andarci con i piedi di piombo capite però che queste cose dovrebbero essere sviscerate secondo le normali procedure cosa succede di solito in parlamento quando si devono fare delle trattative di questo tipo capire che cosa si deve fare con questo tipo si fanno le audizioni esattamente come quelle che abbiamo fatto per il mess dove arriverà già che baraccaracciolo così questo tipo ci diranno se una roba a me sembra che sia pericolosa una cosa del genere ci diranno chi più chi meno se le cose sono che opinione hanno su una cosa del genere si convocano gli esperti e similari alla fine poi si prende una decisione informata a livello di rappresentanti dei cittadini prima in commissione dopodiché una volta diciamo elaborata in commissione si porta in in si porta in aula che ci vada giuseppi a trattare queste cose purtroppo mi viene da pensare che gli interessi potrebbero non essere coincidenti perché il governante pro tempore specialmente se debolissimo come lui ripeto a tutto l'interesse a prendere i soldi subito e il debito perpetuo sbattiamoci nelle palle tanto perpetuamente ci penserà qualcun altro e io sarò molto ma molto lontano invece mi sembra che in questo momento l'ostinato meccanismo sia sia questo cioè prendere andare a ammazzar su non importa con quali con quali cappi anzi se ci sono dei cappi meglio perché così imparano quelli che arrivano dopo no e similari tutto così facendo così facendo tutto finisce finisce a schifio perché in una maniera o nell'altra tu avrai dei soldi da restituire subito per placare la folla perché secondo me io sento che si stanno affilando i forconi se ancora un po di giorni vanno avanti a non esserci soldi né per le imprese né per gli studi professionali né per i ristoranti né per i bar né per tutte le attività che sono chiuse e lo saranno ancora presumibilmente per un bel po di tempo allora per evitare il forcone subito a quel punto si debba ramazzar su con lo strozzino due soldi per poterli distribuire una volta che ha distribuito questi questi soldi allora vediamo vediamo no non sono in giro a casa mia abito qua e allora allora a quel punto uno ci può ci può ragionare un po su perché ormai mi sembra che l'intento sia quello e avete visto che lo schieramento di gente che comincia a pensare che questa prospettiva di distribuire i soldi subito per evitare i forconi e poi tanto chi se ne frega sta cominciando secondo me a far breccia anche nei signori dei due mandati massimo qualche faccina un po terrorizzata dal lato movimento 5 stelle io ne parso di vederla ieri in parlamento belli tranquilli nell'angolo zitti no e cose di questo tipo quindi noi dobbiamo assolutamente vigilare in tutte le maniere certo è che come vedete dall'altra parte si la proposta francese va più o meno anche quella in una direzione analoga certo è che come avete visto lo spiegamento di forza è impressionante lo schieramento di forza è impressionante e a un certo punto diventa anche quasi inutile star lì a tentare di contrastare tutte le bestialità che vengono dette avete notato forse stamattina la signora tinagli ok la signora tinagli presidente della commissione economia del parlamento europeo quindi non è che si può dire che dice no ma io sono una che passa per strada credo economista o qualcosa del genere era con il nostro bravo armando siri e a un certo punto quando siri giustamente gli diceva che le condizionalità possono essere cambiate ex post del mess ha sventolato fuori i fogli dei trattati dicendo no tu menti l'articolo 4 paragrafo 2 questo tipo dice che in in caso quindi di linea di credito precauzionale non è possibile non c'è non si chiede non si domanda aggiustamento macroeconomico e quindi non non domandando aggiustamento macroeconomico non possono esserci cambiamenti la troica l'obbligo di tasse l'obbligo di patrimoniali e così questo tipo ora irene tinagli anche i sassi ormai hanno saputo che nell'ultimo euro gruppo è stato deciso e l'hanno detto tutti non puoi non saperlo sarà estate in isolamento però secondo me un qualche notizia ti arrivava da fuori dalla caverna hanno deciso che la linea di credito utilizzata proprio perché si fidano è proprio perché si fidano per il mess è la cosiddetta e ccl che in inglese sta enhanced condition credit line che in italiano fa linea di credito a condizionalità rafforzata questo fa capire la buona fede di questa gentaglia è linea di credito a condizionalità rafforzata quella che utilizzi quando ti fidi proprio tanto no del 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 debitore quindi non è la pccl la cosiddetta precautionary credit line quindi hai detto una balla quella linea di credito che tu guardi che non richiede le condizioni macroeconomiche è quella perché i soldi ce li ha che presumibilmente si prenderà se per caso la germania avesse bisogno di salvare qualche banca o qualcosa del genere no c'è poi una specifica linea di credito per le banche che la stessa che utilizzato la spagna peraltro non è quella quindi dato che non è dimostrato di non sapere niente in una in una cosa così grave potresti fare la cortesia di fare due cose o chiedi scusa scusate ero in diretto ho detto una cosa molto imprecisa so che una del mio ruolo non dovrebbe non sapere una cosa così importante però mi son confuso c'era una mosca che mi si è spiaccicata proprio sulla linea iniziale della linea di credito quando ho guardato il quando quando ho guardato il report dell'eurogruppo e quindi non ho visto che era una e no cioè col fatto che la mosca si sia spiaccicata l'ho scambiata era una p e quindi perdonatemi ho sbagliato scusate no cose di questo tipo o altrimenti ti dimetti perché sei ignorante quindi c'è due possibilità o la scusa o le dimissioni per ignoranza perché quello è un ruolo importante ne abbiamo pochi in giro per l'europa è un po preoccupante doverci mettere un ignorante no per cui vediamo cioè io propenderai per le scuse sicuramente la signora tinagli non ha visto non non ha capito no e così via se invece lo sapeva e ha mentito a bella posta come troppi stanno facendo allora a quel punto non è che deve dimettersi deve dimettersi di corsa perché ci manca che proprio l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una mentitrice ai danni del proprio paese quindi vedi che c'è sempre un albero delle possibilità o ti scusi e dici che sei un ignorante che 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 non che non lo sapevi no o così tipo o meglio scusa ti scusi e dici che per sbaglio non hai capito due sei un ignorante quindi ti dimetti tre invece lo fai con dolo e allora ti dimetti di corsa questo è la diciamo il crescendo no con cui con cui puoi puoi andare di solito sei sempre lì a blatterare da tutte le parti aspettiamo attenzione te lo richiedi te lo richiedo sempre questa roba qua quindi non è che lascio perdere passo domani tanto chi se ne frega perché io sono anche un po stufo delle balle che si dicono le balle includono ovviamente si sono sentite anche ieri in parlamento il continuare a dire che sono 36 miliardi che sono lì sono 36 miliardi sono lì vuoi che non li prendiamo cioè così facendo è evidente che l'intento doloso cioè vale a dire di far credere che quei soldi sono un regalo quei soldi sono tutti i vari oratori li hanno ricordato quei soldi sono un prestito quindi tutto questo dibattito si va semplicemente a delineare sulla differenza tra l'eventuale interesse caricato dal mess e l'eventuale interesse del mercato il quale interesse di mercato deve essere detratto come abbiamo spiegato tante volte dalla parte relativa agli acquisti della banca centrale ok ricordiamo che anche oggi nonostante tutto nonostante lo spread che sale così questo tipo siamo sempre con tassi di interesse che sono sotto il 2 per cento erano oltre così via non siamo siamo qui ancora liberi vivi no è così questo tipo per cui non non si capisce ci sono state delle aste del tesoro c'è stata una domanda notevole buona parte di questo ovviamente legata agli acquisti della bce e noi andiamo avanti ancora con l'anternino tutti gli altri paesi stanno emettendo debito la spagna in primis sta emettendo sta mettendo bonus e poi anche i famosi paesi quelli che in teoria dovrebbero essere dispersi nel nel nella tempesta no e così via che sono quelli che non hanno l'euro la polonia come farà la polonia che non c'ha il mess non c'ha l'euro come cavolo fa prende e guarda caso ha fatto le sue emissioni in slot e il governo ha tutti i soldi del caso per riuscire a tenere in piedi la popolazione poi la polonia avrà altri problemi perché un paese produttore se non riprende la domanda la domanda aggregata con cui loro prendevano e per esempio facevano le automobili o così questo tipo avrà dei problemi ok quindi noi abbiamo un margine notevole come vi ho detto tante volte abbiamo 20 anni di consumi repressi quindi l'italiano può tranquillamente rimettersi a consumare italiano e così facendo con 60 milioni di clienti che la smettono di comprare roba fatta all'estero e cominciano a comprare roba fatta in italia perché da una parte hanno il denaro in tasca per poterlo fare allora lo si stampasse in quantità sufficienti diciamo così e degli incentivi appropriati per riportare la produzione qua io penso che saremmo tutti contenti di avere la maggior parte delle cose fatte qui tutte fatte qui no ovviamente è impossibile pensare avere tutte le cose fatte qui ma ricordiamo che fra le principali cose che noi importiamo abbiamo le auto e quelle vi posso assicurare io sono passato dopo tanti anni di auto tedesca auto italiana e adesso con l'alto nomeo io personalmente mi trovo benissimo quindi è proprio una questione semplicemente le cosiddette le preferenze rivelate si dice in economia no dice ma io in realtà ho un danno perché sono costretto a comprare una cosa italiana quando invece avrei dovuto comprare avrei voluto comprare una cosa una cosa straniera e ti attacchi caro mio le preferenze rivelate significa che per una volta farai lo sforzo di avere questo questa sofferenza interiore e comprarti qualche cosa italiano in più no perché se compri qualche cosa italiano in più per esempio se tu comprassi una lavatrice italiana invece che una lavatrice tedesca o quantomeno una lavatrice fatta concedo alla lavatrice tedesca di tenersi in marchio di farle in italia vedi bene che per esempio a napoli alla whirlpool e cose di questo tipo non avremmo neanche i problemi della cassa integrazione così questo tipo avremmo più gente che lavora se abbiamo la gente che lavora al nostro interno capite bene che anche i conti rapidamente poi dopo si si risanano se noi riusciamo in qualche maniera a sfruttare questa 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 situazione e ricreare il mondo nuovo che ci sarà dopo questa questa disastro con delle politiche di piena occupazione beh allora vedete che poi magari magari ce la si fa attenzione a fare le politiche piena occupazione questo perché so che ci sono le parti hard line statalista così come ci sono le parti hard line impresa privata no o similari non significa piani quinquennali eh cioè non necessariamente quello cioè l'impresa e l'imprenditoria privata nei servizi e così questo tipo anche nella produzione sacrosanta qui si vive si vive su quello ma capite bene che se lo stato a un certo punto riesce a creare buona parte o di incentivare la crescita e la produzione diretta di buona parte delle cose che invece si importavano e basterebbe semplicemente che lo stato si mettesse a investire nelle cose strategiche quelle dove nessun privato può mettersi a sostituirlo i ponti cioè avete visto cioè i ponti fatti a genova la gestione del dei trasporti quelli fatti un po bene magari no o similari da cosa credete che sia che che si è venuti fuori in che maniera credete che sia venuti fuori dopo l'11 settembre con una recessione in cui di cui la gente se ne accorta praticamente qualcuno nessuno qualcuno no e qualcun altro se ne accorto per breve tempo dopo l'11 settembre se ne è venuti fuori facendo l'alta velocità milano roma con l'enorme cantiere che c'era di fianco all'autostrada e quello sono stati 30 miliardi 30 miliardi solo per quel cantiere insieme insieme con altro messe in fuori bilancio in modo abbastanza furbo da 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 tremonti poi arrivarono sul bilancio dello stato sei anni dopo quando euro stato se ne accorse però in una maniera o nell'altra vede è sì giusto la polizia che gira con le auto straniere cioè una delle prime cose che abbiamo fatto lì in lì alla camera quando siamo arrivati quando siamo arrivati c'era una c'erano delle macchine di cui non dico la marca erano delle Volkswagen e la prima cosa che abbiamo fatto appena appena elette mi hanno detto ma scusate ma magari cambiarle e quelle poche macchine che ci sono non è che ci sono la fila delle auto blu e così via vi ricordo che ce ne sono se non mi ricordo male sette per 630 deputati senatori e deputato semplice virgolette non la può usare servono vanno vanno perché una carica quindi il suo vicepresidente e quelle robe lì tuttavia i grillini hanno insistito per metterci le elettriche perché a ce ne vogliono assolutamente elettriche allora hanno preso tre nissan sono tre nissan leaf credo si chiamino si chiamino così perché ci voleva assolutamente l'elettrica e quindi dato che ci vuole assolutamente l'elettrica loro su sta roba qua erano erano decoccio allora sono andati a prendere sono andati a prendere la nissan comunque vedete bene che in ogni caso margini per spostare la produzione in italia e tornare come eravamo quando si produceva un po qui ce ne sono certo dobbiamo importare il petrolio a zero cioè quel petrolio a zero per noi è un problema importare il petrolio no eh sì ecco la fila fiat magari bisognerebbe fargli smettere di pagare le tasse in olanda ecco questo è questo è sicuro quindi bisogna molto molto banalmente riportare qua quanto più possibile produzione per fare reshoring della produzione bisogna dare un minimo di stabilità perché nessuno si mette ad arrivare qua con conte i 5 stelle così questo tipo già capite perché prima o poi va votato e va dato un assetto un assetto stabile una volta che tu hai un paese con un assetto stabile dove è sicuro che chi c'è chi c'è governa per per cinque anni e magari abbiamo anche già risolto la questione dell'europa perché metti caso questo sogno che la germania ci fa questa questa cortesia e si leva di torno infatti devo stare attento con questi piani qua della della spagna e della francia cioè il il marker cioè per capire se supportarli o meno se una fregatura o meno è se la germania li rifiuta se la germania li rifiuta allora a quel punto anche se sono preoccupanti o così questo tipo sono da appoggiare perché a quel punto se si crea un ambiente ostile e la germania se ne va è l'occasione d'oro è l'occasione d'oro quindi curiamo bene cosa ci dice la germania vediamo se la germania si mostra assolutamente ostile a queste cose potrebbe essere un'idea di appoggiarle in modo assolutamente consapevole supponiamo che se ne va via la germania supponiamo che qui si crea un governo stabile perché si va finalmente a votare a quel punto riusciamo ad avere la agognata maggioranza a quel punto vedi che con una prospettiva di stabilità e con eliminato il problema diciamo così della della moneta troppo forte e i problemi interni dell'austerità e tutte quelle balle lì si riesce sicuramente a pensare di ricostruire il paese petrolio ai minimi le caratteristiche sarebbero tutte cioè ci sarebbero veramente le caratteristiche tutte per per potersi rimettere rimettere in pista sì certo io poi ovviamente sarebbe veramente una condizione assolutamente ideale con la propria moneta no per poterla gestire questo prezzo così basso del petrolio perché in una maniera o nell'altra ci troveremo avvantaggiati rispetto a tanti altri e potremmo senza tante regole senza tante pastoie e cose di questo tipo prepararci per con la flessibilità che la nostra industria per quello che sarà la domanda del nuovo mondo ma lo vedete in giro lo vedete ma percepite avete non so sarà che che magari io sono così sono sono fortunato ma 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 quanti amici e cose che ci sono che sono lì che mordono il freno pronti a cercare di capire com'è la possibilità per farci soldi quanti sono gli ristoranti che disperati no che però a un certo punto sono già subito sul pezzo diceva bene adesso mi organizzo col delivery e così via quanti sono quelli che passata la botta iniziale sono già lì che stanno dicendo caspita adesso io prendo e posso produrre questo posso pensare di riconvertirmi a quest'altro cioè c'è una voglia pazzesca di lavorare di fare di rimettersi in gioco questa voglia pazzesca che che secondo me che secondo me c'è sta covando se appena gli si riesce a dare benzina se gli si riesce a dare seguito ma noi siamo in grado di produrre qualcosa di grande veramente io sono convinto che non saremmo da meno rispetto rispetto ai nostri nonni certo che se in questo momento invece noi siamo tutti preoccupati di andare a inginocchiarci da questo da quest'altro spargere due prebende senza prospettiva lavorativa di reddito di cittadinanza potenziato e similari non è questa la risposta cioè noi dobbiamo riuscire a rimetterci al lavoro tutti tutti e con il denaro sufficiente per poterlo fare quei sistemi qua del credito del 25 mila euro e cose di questo tipo è evidente che non stanno funzionando non stanno funzionando perché non li erogano e quelli che li erogano li utilizzano per sostituire i crediti che c'erano prima quindi la banca furbona che cosa fa avevi un fido di 20 mila io te lo sostituisco con quello attuale così adesso il mio creditore diventa lo stato non diventi tu e io dormo meglio non va soldi vanno dati a fondo perduto ma vanno dati a fondo perduto non perché bisogna essere generosi o così questo tipo ma perché è una necessità di tenuta del sistema tutti l'hanno capito tutti li stanno distribuendo da tempo noi non si fa niente gli scostamenti di bilancio slittano in avanti perché bisogna aspettare che arrivino le condizioni per farci prendere il messo io sono oggettivamente stufo ve l'abbiamo spiegata in tutte le maniere non so fino a che punto la gente può potrà aspettare il problema è che quanto più la gente diventa esasperata e quanto più vedrete ci sarà qualcuno che dica ma sì ma chi cazzo se ne frega io i soldi li voglio subito piuttosto il mess ecco in quel caso veramente significa che che si sarebbe compiuto uno dei più grandi atti di inganno nei confronti di una popolazione perché gli si è dato l'impressione che non ci sia alternativa quando invece l'alternativa assolutamente c'è vi ringrazio e vi tengo come al solito informati